Buonasera a tutti e benvenuti a Procida, capitale italiana della cultura per l'anno 2022. Innanzitutto vi porto i saluti del sindaco Dino Ambrosino che oggi non è qui con noi e io sono Leonardo Costaiola, assessore al turismo dell'isola di Procida. Che cosa abbiamo realizzato con Banca Mediolanum? È una collaborazione che parte da lontano, ci sono 13-14 mesi di lavoro e una collaborazione che punta alla cultura in un anno importante per Procida. Oggi si chiude uno dei 5 eventi culturali realizzati dalla piattaforma culturale 110 per Procida. Una collaborazione a 360 gradi perché abbiamo stretto un'intesa e anche una visione rivolta al futuro. È stato un anno importante non solo per Procida ma anche per Mediolanum e per la piattaforma culturale perché è stato un anno in cui abbiamo seminato tantissimo. Banca Mediolanum, a di là degli eventi culturali, ha fatto per Procida tantissimo e ha donato due importanti opere. Una scultura realizzata dall'artista Fabio Roncato e una grossa donazione alla comunità donando l'abito e il costume tipico procidano che è stato realizzato da una delle poche realtà, da un'associazione del territorio. Ormai sono pochissime le signori, le artigiani capaci di poter realizzare questo abito e grazie a Mediolanum abbiamo condiviso il nostro passato cercando di determinare anche il futuro, il tutto legato alla cultura. Io non mi prolungo più, vi saluto, vi do il benvenuto e lascio la parola a Luigi Cerutti. Grazie. Allora, di nuovo buonasera a tutti. Ringrazio l'assessore Costagliola per il benvenuto. Ringrazio Procida per questo bellissimo benvenuto a questa serata organizzata da 110 appunto dalla piattaforma culturale di Mediolanum. Questa sera faremo un viaggio che ha a che fare con l'acqua, direi che siamo nel posto giusto, il tempo, a cavallo tra la scienza e l'arte. A condurre questo viaggio con noi ci sono, molti di voi penso la conosceranno, la dottoressa Maria Rosaria Capobianchi che è qui di Procida, professoressa straordinaria di Biologia Molecolare, stata direttrice del Laboratorio di Biologia dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive dello Spallanzani, ospedale che abbiamo tutti imparato a conoscere se non altro attraverso i giornali, perché direi il più attivo nella lotta al virus, al Covid, essendo anche stato tra i protagonisti, avendo aiutato a isolare il virus. Qui con noi poi l'artista Fabio Roncato, che è colui grazie al quale potete ammirare l'opera che è stata donata e che coinvolgeremo ovviamente all'interno della nostra discussione, e Ramona Ponzini, fondatrice del duo curatoriale Treti Galazie e ovviamente firma per l'arte contemporanea di 110. Allora, direi quindi di iniziare, chiedo innanzitutto a te Ramona di fare un primo tour nel lavoro di Fabio e iniziare a portarci dentro a Momentum. Buonasera, buonasera a tutti, grazie mille, grazie per l'invito. Era la prima volta a Procida per me, veramente mi ha conquistata. Allora, iniziamo introducendo il lavoro di Fabio Roncato nella fattispecie la serie Momentum. Vorrei farlo però attraverso tre elementi, tre elementi più uno, due che derivano dalla settima arte, il cinema, uno dall'arte contemporanea e poi c'è un più. Allora, iniziamo. Lo riconoscete? Bravissimi, esattamente, bravissimi. È Avatar, film di James Cameron, regista canadese, un film del 2009, una brevissima sinossi. Sul pianeta Pandora, che è abitato dai navi, sono appunto gli abitanti del pianeta. È un pianeta ricchissimo, ricchissimo di natura e anche di risorse naturali. Viene individuato come fonte di una delle possibili risorse energetiche utili a salvare la Terra da appunto la crisi che sta attraversando, quindi viene in qualche modo colonizzato e, insomma, si cerca di cacciare quelli che sono gli abitanti per poter estrarre questo metallo. Quello che ci, diciamo, l'elemento per noi importante che ci aiuta a comprendere il lavoro di Fabio è il flusso. Voi sapete, vi ricorderete probabilmente, che tutti gli elementi del pianeta gli abitanti, ma anche la flora, la fauna, sono tutti legati da questo flusso energetico che li attraversa, li permette di comunicare anche ed è un elemento che li lega in maniera stretta tant'è che il protagonista alla fine chiama proprio Ewa attraverso questo flusso energetico che attraversa il pianeta in aiuto appunto dei navi. Quindi ecco, da Avatar prendiamo questo flusso. Andiamo col secondo elemento. Anche questo forse lo riconoscerete. Questo è sempre di James Cameron. Direte che sono abbastanza fissata con James Cameron? Sì! Questo è Terminator 2 del 1991. Allora, vabbè, James Cameron è un cineasta assolutamente finissimo travestito da regista di film blockbuster. In realtà tutti i suoi film sono veramente delle detonazioni di molteplicità di temi estremamente interessanti. A parte che è anche definito il regista dell'acqua e è un elemento che ci interessa da vicino nel nostro viaggio di questa sera. È anche chiaramente il regista della tecnologia. è di una riflessione sulla tecnologia, insomma, molto cosciente e presente perché ha anticipato tantissime criticità dello sviluppo tecnologico, questo già nell'84 con il primo Terminator, ma il secondo Terminator ci viene in aiuto perché allora riconoscerete probabilmente la particolarità, la peculiarità che ha reso famoso questo film del 91, ovvero il T-1000. Non il T-800 interpretato da Arnold Schwarzenegger, ma il T-1000 interpretato da Robert Patrick. Qual era la sua caratteristica? La sua caratteristica era quella di non avere un esoscheletro rigido, ma avere un esoscheletro in metallo liquido. Una tecnologia del futuro che aveva una peculiarità particolare, ovvero quella di entrando in contatto con un elemento organico, con la vita, ne assumeva le sembianze. Infatti lui si aggira, insomma, attraversa tutto il film mimetizzandosi tra le varie forme di vita. Ne assume la forma, ne assume anche la voce. Quindi quello che dobbiamo focalizzare di Terminator 2 del T-1000 è proprio questo metallo, questa materia inorganica che a contatto con la vita, con la materia organica, ne assume le sembianze. Passiamo al terzo elemento. Questo è forse un po' più difficile da individuare. È un'opera di arte contemporanea del 1913 di colui che è considerato il padre dell'arte concettuale, ovvero Marcel Duchamp. Forse ve lo ricorderete per Fontana, per l'Orinatoio, o per l'opera che ha dato il via, diciamo, all'arte concettuale, che è stata la sua prima opera di arte concettuale, che è Ruota di bicicletta, cioè una ruota di bicicletta incastonata in uno sgabello. Ci sarebbero da parlare per giorni, diciamo, di Marcel Duchamp. Lui nasce pittore, vi dico proprio due brevi notazioni. Lui nasce pittore, si era formato come pittore, era un eccellente pittore di pittura espressionista, cubista, ma a un certo punto dice la pittura retinica, la pittura pittura, è morta. Bisogna andare oltre, serve la pittura idea. E nel 1913 proprio crea il suo primo ready-made. Il ready-made è nient'altro che una decontestualizzazione di un oggetto preso e messo in un altro contesto. Detta in maniera un po', come dire, semplice, però insomma per farvi capire, perché si dice sempre che l'arte contemporanea è un po' ostica, no? In realtà bastano, insomma, alcuni elementi che ce la possono far comprendere. Non è così inarrivabile. Allora, del 1913, quindi questo anno importantissimo per l'arte, perché poi veramente l'arte concettuale e quello che ha fatto Duchamp ha veramente investito tutto ciò che è arrivato dopo. Three Standard Stoppages, che è quest'opera. Three Standard Stoppages significa tre rammendi standard. Sulla traduzione e sull'interpretazione anche di questo titolo potremmo veramente andare a parlare per giorni. Però, che cosa ha fatto con quest'opera? Lui ha preso tre fili di un metro ciascuno e poi li ha fatti cadere dall'altezza di un metro a terra, li ha fissati su tre pezzi di stoffa blu, li ha laccati e poi che cosa ha fatto? Ha registrato le forme che questi fili hanno preso e ne ha estratto delle sagome in legno. Queste sagome in legno, con queste curvature, li ha definite tre nuove forme di misurazione, tre nuovi standard di misurazione. Quindi non più il metro lineare, ma questo metro. Che cosa ci serve? Che cosa dobbiamo, diciamo, cogliere da quest'azione? Lui ha interagito, compiendo queste azioni, con le forze della natura e ha fissato un momento, ok? Il momento in cui questo filo si è depositato a terra prendendo questa forma, quindi ha interagito con l'umidità della stanza, l'aria, stanza, il luogo insomma dove ha condotto questo esperimento, la forza di gravità, prima di tutto. E chiaramente queste tre forme sono tutte differenti. Se ne avesse fatte delle altre sarebbero state altrettanto differenti. Quindi sono dei momenti, dei momenti fissati. Che cosa possono avere in comune questi tre elementi di cui vi ho parlato? Abbiamo la materia inorganica che viene a contatto con quella organica e si trasforma. Abbiamo un flusso che attraversa tutti gli elementi e abbiamo il fissare delle forze della natura. Momentum di Fabio Roncato Fabio che cosa fa? Fabio prende della cera, la scalda, la mette in dei particolari contenitori, poi entra nel fiume, in un fiume, il Brenta solitamente, ma possono essere anche altri, e fissa la corrente del fiume in un unico momento, quel momento in cui la cera incontra la corrente. È una frazione di secondo perché la cera calda si raffredda e la scultura si forma in quell'istante. e queste sculture sono uniche, sono irripetibili, un po' come i fili di Duchamp. E c'è un altro elemento che è fondamentale per la comprensione di quest'opera, ovvero il tempo, o meglio, la tensione tra il tempo lineare, quello che è misurabile, che scorre, che i greci definiscono kronos, e il tempo qualitativo, ovvero kairos. Il tempo qualitativo in framezza, segmenta la linearità di kronos. E quindi potremmo dire che il lavoro di Fabio va a cristallizzare un frammento di kairos nello scorrere del tempo lineare. Grazie Ramona. Ramona ci ha portato, ha iniziato a portarci dentro al tuo lavoro Fabio. Adesso entriamoci ulteriormente. la prima riflessione che ti chiederei di fare all'atere di quello che ci ha già raccontato Ramona è questa. Questi oggetti che sono il risultato di quest'azione, di quest'azione che è un processo che viene inevitabilmente influenzato da un elemento naturale, quello dello scorrere dell'acqua e del fiume e dal tempo, quindi dalla frazione di tempo che passa in cui tu plasmi insieme al fiume quest'opera, mi ha fatto venire in mente fondamentalmente guardando l'oggetto altri oggetti che troviamo in natura e che spesso interroghiamo come fossero i fusti degli alberi o i fossili. Questi sono elementi naturali in cui gli scienziati spesso si rifanno per conoscere di più della nostra storia. Leggiamo i fossili per capire da dove arriviamo, guardiamo l'interno di un fusto di un albero per conoscere la sua vita e conoscere gli impatti che il clima hanno avuto sulla sua vita. Quindi per te innanzitutto che cos'è Momentum? Allora, buonasera a tutti. Dunque, Momentum è una, più che una scultura è un modo di fare le sculture. Non è dunque un cosa ma è un come, mettiamola così. Come dicevamo, c'è tutto un processo che anticipa la produzione di questa forma e questo processo normalmente si attiva ogni volta che c'è questa relazione fra essere umano che in questo caso sono io ed elemento naturale il paesaggio in termini più generali mettiamola così. Del paesaggio ho deciso di scegliere un preciso punto che è appunto lo scorrere d'acqua di un fiume. Ora, nell'immaginario collettivo questo punto del paesaggio normalmente viene percepito da noi come lo scorrere del tempo. Vediamo scorrere l'acqua di un fiume lo vediamo fare costantemente e in un certo senso scandisce come un orologio il procedere inesorabile del tempo. Ora, la mia idea di base era cercare di trovare una soluzione, un modo per riuscire ad ottenere un istante in quello scorrere. Perciò se noi pensiamo al fiume come una serie di eventi ecco io cercavo un modo per prenderne uno e portarlo a riva. Prima quando parlavo con Luigi mi chiedeva appunto è un contenitore effettivamente di tempo e io dicevo sì nel senso ne contiene uno molto piccolo contiene un istante proprio in virtù del fatto che questo processo è molto rapido è tutto un fiume che raffredda la cera che io ci verso sopra la mia cera oscillano fra 15 kg 20 kg ecco un intero fiume che raffredda ci impiega veramente pochissimo ogni volta il fiume ti restituisce una forma diversa molto fragile però quel preciso istante dà una specificità a quella forma ecco appunto è una forma diciamo così naturale ho avuto modo di lavorare in un museo recentemente in un museo di scienze naturali di Brescia e lì ho avuto l'occasione di non solo vedere ma anche toccare maneggiare reperti geologici che avevano che erano vecchissimi avevano contenevano anche quelli un'unità di tempo però al contrario estremamente grandi e noi li avevamo lì in quel momento erano con noi li possedevamo e in qualche modo non solo contengono il tempo ma in qualche modo lo rappresentano perciò noi possiamo come dire esercitare la nostra immaginazione esercitare la nostra capacità di comprendere le cose in questo caso ecco una cosa un po' astratta come potrebbe essere lo scorrere del tempo però in quel caso lì ecco noi potevamo come dire avere ad ottenere e riuscire ad afferrare qualche cosa che in qualche modo ci aiuti anche a cambiare prospettiva ecco cambiando prospettiva escludendo la prospettiva umana mettiamola così tutte quelle unità di tempo a cui noi siamo abituati nella nostra quotidianità a relazionarci in quel momento riuscivo a capire cos'erano cos'era un'unità di tempo molto più grande non solo della mia stessa vita ma magari addirittura della mia stessa specie ecco Momentum è il contrario in realtà non riflette più su unità di tempo gigantesche come potrebbe essere un fossile ma è un istante nel tempo cioè cos'è un istante nel tempo come appare un istante nel tempo come possiamo rubarlo dallo scorrere degli eventi il Momentum in realtà è questa cosa qui è un modo per rubare gli istanti dallo scorrere d'acqua ecco noi siamo qui questa piccola formazione di tre persone è particolarmente adeguata perché abbiamo una grande curatrice attiva nell'arte contemporanea poi faremo qualche domanda abbiamo un artista e abbiamo una scienziata e a volte quando ho dei dialoghi mi rendo conto che è normalissimo questo le persone pensano che gli artisti siano un po' di personaggi un po' strani che si aggirano guardano per aria e fanno delle cose che poi magari hanno anche un mercato ma questo è un incidente in realtà gli artisti compiono un viaggio utilizzando un linguaggio non convenzionale cioè non è quello della parola umana non è quello della matematica ma un linguaggio non convenzionale attraverso il quale riescono a sintetizzare delle idee e molto spesso sono visto che non hanno i legami che ha la scienza che ha l'onere della prova ha l'onere di dover provare qualcosa e riprovarlo ed essere certo che qualcosa funzioni possono compiere dei salti perché possono fare a meno dell'onere della prova ma facendo dei salti spesso vanno in avanti in avanti anche di decenni anticipando le grandi sfide che poi la scienza e la tecnologia dovranno colmare quindi in questo senso Fabio compie un salto che poi la dottoressa Capobianchi dovrà colmare tecnologicamente e questo è qualcosa che nel mondo del genere umano è successo molto spesso artisti che hanno spinto con le loro idee aziende a colmare tecnologicamente dei gap fino a quel momento impensabili fino a quel momento non superati quindi l'artista a volte l'arte ci pone le domande e noi diamo le risposte e allora visto che questo dialogo è a cavallo tra arte e scienza la domanda che pongo alla dottoressa è il covid è stata una grande difficile e dolorosa domanda all'un genere umano perché è stata una sfida al genere umano che cosa ci ha portato di male lo sappiamo che cosa ci ha portato di bene e che cosa ci può portare ancora di bene se qualcosa ci può portare grazie della domanda io però vorrei fare un passo indietro nel senso che ho colto tra nei discorsi fatti finora un'analogia abbastanza importante con quello che è il mondo scientifico cioè noi permettetemi di fare questa premessa perché siamo in questa pandemia siamo stati abituati e siamo abituati a sentire un sacco di voci un sacco di voci e siamo anche stati un po' colpiti da persone che ci tiravano un po' le orecchie dicendo scusate state dicendo delle cose che non sono provate bisogna fondarsi sull'evidence based quindi questa parola è il tema comune però teniamo presente che anche nella scienza come nell'arte l'evidence based è un flusso nel senso che non esiste una verità assoluta che noi andiamo a scoprire noi mettiamo dei pezzettini che ci aiutano ma questi pezzettini non necessariamente sono una fotografia immutabile la fotografia si adegua e noi continuamente cambiamo e adeguiamo la comprensione della realtà cercando di spiegarla e cambiano le parole cambiano i temi interpretativi e un esempio cioè una cosa che un piccolo aneddoto che vorrei raccontarvi è che quando io mi sono laureata nel 76 cercavo lavoro in scienze biologiche cercavo lavoro e ho fatto un po' il giro di tutto il panorama dei laboratori a Roma in particolare e mio marito se lo ricorderà perché lui mi ha accompagnato in questa particolare occasione un professore mi dice se dottoressa Andrea è abbastanza sfortunata perché si è laureata in un momento in cui abbiamo capito tutto abbiamo scoperto tutto quindi la sua carriera la vedo molto ferma questo è importante perché nessuna profezia si è rivelata più errata di questa perché il mondo è cambiato totalmente e non c'è una realtà che non sia stata smentita o meglio aumentata da quelle che sono le nuove scoperte e le nuove acquisizioni quindi siamo in un mondo in evoluzione e in questo ci sono dei momenti storici che segnano delle pietre miliari il covid è stato uno di questi momenti storici per tornare alla domanda come lo è stato l'HIV 40 anni fa cioè sono state delle tragedie per l'umanità che ci hanno portato a conoscere a contatto con una realtà anche difficile da contrastare in quel momento che però ha acuito il desiderio di superamento l'ingegno e la collaborazione tra diversi settori per cui sono stati due momenti cruciali che hanno permesso di avere delle svolte tecnologiche enormi che hanno rivoluzionato tutto quello che è avvenuto dopo l'HIV ci ha permesso di capire di avere degli strumenti di misura della carica virale del virus che è lo strumento col quale oggi si curano i pazienti si seguono e si capisce se le terapie funzionano o no e non si applica solo l'HIV si applica praticamente tutti gli agenti infettivi per il covid abbiamo avuto vari momenti che ci hanno arricchito tantissimo innanzitutto la prova che nel giro di pochissimi giorni tecnologicamente siamo stati capace l'uomo è stato capace di sequenziare di identificare il virus sequenziarlo mettere a punto metodi diagnostici metterlo in cultura isolarlo per poterlo studiare e questo in pochissimo tempo se noi pensiamo ad un'analoga epidemia che abbiamo avuto nel 2003 del progenitore di questo virus si chiama SARS-CoV-1 ha fatto 8000 casi circa con circa 800 morti un ordine di grandezza molto inferiore rispetto a questo attuale e in quell'epoca nel 2003 ci sono venuti più o meno 8 mesi per raggiungere quello che oggi nel 2020 siamo riusciti ad ottenere in meno di un mese cioè conoscere il virus sequenziarlo fare cominciare a disegnare farmaci e cominciare a disegnare un vaccino cosa che ci ha permesso grazie a tanta storia che c'era dietro il vaccino non è uscito fuori come un fungo c'ha 30 anni di storia dietro era pronta tecnologicamente la piattaforma avendo avuto l'informazione di come era fatto questo virus è stato preso il pezzettino magico messo nel vaccino e il vaccino è stato pronto in pochissimo tempo queste sono acquisizioni che dieci anni fa non ci immaginavamo non pensavamo di essere così avanti e l'altra cosa è la la sincerità e la cooperazione a livello internazionale che è stata fantastica diciamo che abbiamo sofferto della precedente esperienza del SARS-CoV nella quale c'è stata tanta omertà sapete quanto si è rimproverato alla Cina in particolare di non aver diffuso in tempo le informazioni che avrebbero permesso di evitare quel grande boom che c'è stato questa volta è andata diversa non è stato evitato il boom perché la natura ci mette del suo e le caratteristiche di questa infezione erano tale per cui siamo stati fortunati ad avere degli strumenti diagnostici e terapeutici non solo di prevenzione vaccino ma anche terapeutici con i farmaci che sono venuti fuori in pochissimo tempo grazie a una cosa che abbiamo imparato la collaborazione e mi riferisco a questo punto a un altro collegamento che è quello con il pianeta dei navi dove c'è un flusso continuo ecco questo è un altro concetto che è un concetto che è stato molto stressato e che è un'acquisizione che ha avuto la sua realizzazione con quello che è stata la rivoluzione scientifica del covid ovvero sia il mondo one health il concetto one health è un concetto che sta girando da 4-5 anni però questa volta ha avuto la sua apoteosi che cosa vuol dire one health noi siamo animali fra gli animali abitanti di un pianeta che è fatto di ambiente animali piante risorse naturali aspetti sociali e qualsiasi cosa succede in qualsiasi parte remoto del pianeta può avere ripercussioni sul pianeta intero quindi bisogna smetterla con la cultura dell'uomo io comando io genero io modifico la natura io sono parte della natura e come questa ne subisco il flusso quello che succede nel mondo animale si riverbera perché i virus che vengono fuori continuamente fanno il salto di specie e con le occasioni aumentate di contatto fra l'uomo e gli animali per tanti motivi motivi clinatici motivi ambientali motivi economici l'uomo sta forzando questo rapporto con la natura però il contatto così stretto con un mondo che viveva bene per conto suo lo porta a essere vittima di substrato di salti di specie e con il fatto che qualsiasi posto della terra oggi è raggiungibile in un tempo brevissimo sicuramente un tempo inferiore al periodo di incubazione di qualsiasi malattia infettiva è facilissimo che è difficile diciamo nell'altro senso è difficilissimo arginare la diffusione di qualsiasi nuovo evento di qualsiasi nuovo patogeno che passi dagli animali all'uomo quindi tutti questi concetti oggi li racchiudiamo nella cosiddetta lesson learned quello che abbiamo imparato sulla pandemia l'ho descritta con termini un po' maccheronici però spero di aver reso l'idea e quello che è importante è che non ce la dobbiamo dimenticare questa lezione perché perché con l'andamento attuale sicuramente non si sa quando ma sicuramente un altro evento del genere ci sarà perché le occasioni di passaggio di virus dagli animali dell'uomo sono sempre in aumento e quindi potrà ricapitare quindi quando non lo sappiamo però che capiterà di nuovo lo sappiamo di sicuro abbiamo imparato che dobbiamo condividere dobbiamo metterci d'accordo dobbiamo basarci sull'evidenza cioè non dobbiamo fare operazioni diciamo esoteriche ma dobbiamo cercare di raccogliere le informazioni interpretarle essere anche onesti perché non sempre si interpreta nella maniera giusta quindi essere onesti nel riconoscere se abbiamo sbagliato questo è onestà intellettuale ed è cruciale e speriamo che la prossima volta andrà meglio ecco grazie dell'intervento prendo un elemento di questo intervento per tornare da te Fabio e l'elemento è la natura Ramone e Fabio ci hanno spiegato bene il tempo nel lavoro momentu adesso andiamo un passo dentro la natura l'acqua e il fiume evidentemente dicevo prima l'acqua siamo nel posto giusto se Enea nel suo viaggio nella sua rotta verso Roma per mettere le basi della civiltà contemporanea anche occidentale passa da Procida e ci seppellisce la propria nutrice elemento di maternità quindi la maternità dell'acqua evidentemente ripresa da questo cronotopo tu hai scelto o sei stato scelto non lo possiamo dire dal fiume fiume che è un elemento costante anche di misurazione spesso ansiogena che facciamo dell'impatto climatico misuriamo l'altezza dei fiumi sempre più bassa perché ovviamente la siccità Paolo Virzino è il suo ultimo film e la siccità prosciuga il tevere come metafora del disastro ambientale tu scegli il fiume come co-scultore o comunque come elemento guida di questo tuo lavoro hai origini venete hai una radice veneta il fiume lì è evidentemente un elemento importante del paesaggio perché il fiume e che cosa ti trasmette il fiume allora in quel preciso in quel preciso elemento c'è nel preciso elemento dell'acqua mettiamolo così ci sono molteplici possibilità allora una di queste possibilità è sicuramente la possibilità di riuscire a interagire non solo con l'elemento naturale ma anche con la comunità nel senso l'acqua ha una ha una profonda radice mettiamola così nell'immaginario collettivo io sono della della provincia veneta sono ho due fiumi che tagliano il mio territorio uno è il Bacchiglione l'altro è il Brenta il Brenta è un fiume abbastanza abbastanza gentile mettiamola così mi dà la possibilità di attraversarlo di capirlo di insomma vedere come si comporta ecco in realtà questa scultura non rappresenta qualcosa è un è un processo e questo processo in realtà va chiuso con un'immagine e io ho il mio modo ma ogni persona che incrocia questa scultura ha il suo modo diciamo che è una scultura che può essere può stabilire una relazione con chi la osserva in maniera indipendente da me e si può chiamare interpretazione forse forse no non lo so però normalmente uso questo termine ecco ed è questa parte qui che mi interessa cioè la relazione con gli altri e tornando al discorso che facevamo prima era mi interessa questo aspetto perché non è più un rapporto diretto che io ho con la scultura e di conseguenza con chi lo osserva io provo ad attivare un processo questo processo poi va da solo questa sua solitudine in qualche modo abbraccia anche 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 altre persone ogni volta si sviluppa in maniera indipendente così facendo in realtà io ho come dire dentro di me ho la speranza che questa cosa come come lo è stato con me lo sia anche con gli altri c'è un un momento anche per sviluppare una sorta di consapevolezza e conoscenza con l'elemento naturale qualche cosa che si basa sull'esercizio dell'immaginazione non si basa sulla rappresentazione di qualcosa io non dipingo un fiume perciò non consegno un'immagine già pronta di qualche cosa che ho visto lascio che sia il fiume a farlo qualche cosa e quel qualche cosa poi va interpretato ecco questo esercizio di immaginazione è lo stesso esercizio di immaginazione che io uso quando per esempio parlo o una conversazione con persone che appartengono a campi del sapere diverso dal mio come può essere quello scientifico prima oggi quando ci siamo incontrati parlavo di questo un rapporto di privilegio con un astrofisico in provincia di Padova con cui spesso lavoro a lui piace molto quello che faccio a me piace molto quello che fa lui perciò abbiamo questa sorta di è nata questa amicizia io per riuscire a capire come è successo oggi con noi per riuscire a capire alcune cose che mi vengono dette devo per forza usare la mia creatività perché sono informazioni talmente complesse che vanno completamente fuori dalla mia capacità di poterle immaginare visivamente e credo che l'arte contemporanea e soprattutto l'arte visiva in questa in questa in questa relazione abbia un ruolo che sia quello appunto di sviluppare una sorta di modo di conoscere le cose basato sull'esercizio della creatività dunque tralasciando completamente quella che è la presentazione per esempio di un fenomeno ma provare a interagire con questo fenomeno e nel processo di comprensione di questo fenomeno fare delle sculture che non siano una risposta ma siano un tentativo di comprenderlo il fenomeno ecco poi mettere in condivisione questo tentativo con gli altri e vedere se collettivamente in maniera collettiva ne posso uscire qualche cosa di interessante perché ho fatto questo esempio perché in realtà ecco avere una consapevolezza diversa sulla natura che non sia solamente legata all'osservazione della bellezza della natura o insomma una sorta di narrazione un po' da cartolina ma qualche cosa di più attivo di più di più concreto di più realista ci aiuti anche a in qualche modo evitare che i nostri comportamenti possano incidere in maniera negativa sugli eventi del futuro e io vivo con questa certezza e mi piace pensare che un certo tipo di arte contemporanea abbia possa incidere ecco su questa cosa grazie ecco facciamo ancora un giro di tre domande Ramona approfitto della tua presenza e della fortuna di avere qui una delle persone più attente al panorama contemporaneo di ricerca contemporanea visuale in Italia e non solo per farti questa domanda un po' ad ampio spettro noi oggi parliamo siamo qui su questo palco per mettere in relazione la ricerca per immagini con la ricerca scientifica quindi arte e scienza se dovessi qualche minuto darci una rappresentazione di quanto gli artisti italiani in generale nel mondo di quanta interazione vedi tra arte e scienza di quanta ricerca di artisti contemporanei nell'ambito delle tecnologie scientifiche digitali o analogiche vedi in questo momento a che punto è questo dialogo sia interrotto o è molto attivo no direi che è assolutamente molto attivo anche perché ritengo che gli artisti e gli scienziati abbiano qualcosa in comune di estremamente viscerale che poi prende delle declinazioni differenti questa è l'intuizione l'intuizione è quella che muove l'artista che lo spinge a portare avanti una ricerca e a tentare e provare perché sono tutti dei tentativi no? poi tra l'altro la produzione contemporanea di arte ci sono sì certo gli artisti che fanno magari solo pittura e quello è un caso però ormai si parla proprio di arte multidisciplinare per cui è non è assolutamente raro che l'artista magari abbia decida di tradurre un'intuizione con una resa formale pittorica scultorea video installazione fotografia quindi quello è un ulteriore processo però alla base c'è un'intuizione e è un costante tentativo se vogliamo no? di dimostrare ma neanche di dimostrare perché non si tratta di avere ragione su un'intuizione ma si tratta di avere un impulso verso la ricerca e alla fine anche uno scienziato che cosa fa? ha un'intuizione e cerca di provarla quindi questo trovo che sia veramente un qualcosa in nuce che abbiano in comune gli artisti e gli scienziati e poi sì il dialogo tra arte e scienza è quanto mai vivo adesso se devo pensare a qualche esempio Fabio assolutamente sì ma mi viene in mente sono tantissimi faccio fatica a come dire raccoglierli e catturarli in un momento ma pensiamo a Roberto Cuoghi pensiamo al suo alla sua porzione del Padiglione Italia nella Biennale del 2017 pensiamo appunto a queste sculture che attraverso le muffe si autoscolpivano quindi c'è sempre la natura e comunque uno studio scientifico alla base di quella ricerca poi estetica no? se vogliamo però il processo è assolutamente scientifico oppure mi viene in mente un altro giovanissimo con cui ho anche avuto l'onore di lavorare Matteo Nasini che è un artista romano lui era tra l'altro nel suo caso si parla di musica arte visiva scienza adesso l'ultimo suo progetto che è un progetto che va avanti già del 2019 è la mappatura degli astri e la loro trasposizione in musica e facendo questo per poter creare un'opera d'arte che è una serie di strumenti che suonano da soli attraverso una partitura che gli viene data ma questa partitura deriva da una mappatura stellare che lui ha potuto comunque condurre solo relazionandosi con un astrofisico ok per cui gli esempi possono veramente essere tantissimi poi se vogliamo andare nella post internet art c'è tutto ci sono proprio anche filoni non solo singoli artisti è un universo veramente veramente ampio e vasto e trovo che la cosa veramente interessante sia questa capacità di dialogo tra le discipline ecco prima lei dottoressa ci ha spinto nella natura adesso provo a spingere lei nel concetto di tempo mi interessava chiederle questo che mi ha colpito prima mi hanno colpito prima le sue parole quando uno pensa alla ricerca scientifica uno ovviamente o meno si fa un'immagine la ricerca è qualcosa che va avanti costantemente mentre parliamo c'è qualcuno molto più di qualcuno nel mondo che sta lavorando per far progredire in qualche modo le tecnologie o i saperi o i saperi umani quando arriva un'emergenza come quella provocata dalla crisi pandemica c'è una reazione e quindi si diventa reattivi e si cerca di stringere i tempi vedevamo questi conteggi preoccupanti di infettati di morti che salivano e attendevamo una risposta da parte della scienza risposta che grazie a Dio è arrivata nella sua esperienza in un laboratorio in generale nella sua esperienza professionale quanto conta lo scartamento ridotto cioè il tempo che ogni giorno si passa in laboratorio come organizzato un laboratorio che deve fare ricerca su certe cose e quando avvengono questi momenti di forte crisi in cui magari si interrompe tutto e ci si deve lavorare 24 ore al giorno quindi questi due tempi uno che è un tempo più lento quello che muove verso un obiettivo di medio e lungo periodo e l'altro un tempo brevissimo in cui un giorno in più sembra troppo il lungo periodo e il lungo tempo è quello che serve alla preparedness cioè a costruire come si tende un arco perché poi quando è il momento l'arco scocchi e si colpisca il bersaglio allora in altre parole faccio l'esempio del mio laboratorio perché ovviamente è quello che conosco meglio il laboratorio è un laboratorio di risposta all'emergenza stiamo parlando di questa tipologia di laboratorio studia e fa uno scanning del panorama infettivo ci sono dei siti e delle modalità di comunicazione rapida in cui vengono annunciate cose strane in Cina per esempio già all'inizio di gennaio era arrivata l'informazione che c'era una polmonite che non si conosceva che forse era strana allora che cosa fa un laboratorio che si dedica alle emergenze tiene presente tiene fa uno scanning di tutto questo panorama e quando c'è una cosa interessante cerca di capire che cosa serve allora per le infezioni nuove emergenti serve mettere appunto la diagnostica perché la diagnostica non è quella assodata che si compra con le ditte perché quando c'è una cosa nuova non c'è niente di sviluppato mancano i controlli positivi non si sa che cosa cercare allora appena si capisce che c'è qualcosa che forse vale la pena di cercare ci sono i laboratori che si occupano di questo mettono appunto i metodi diagnostici cioè che oggi sono quasi sempre molecolari ovvero sia l'esempio pratico appena è stato pubblicato il genoma del virus parliamo del 10 gennaio del 2020 già il giorno dopo c'erano gruppi nel mondo che stavano mettendo appunto la diagnostica con il genoma perché oggi la diagnostica molecolare si disegna identificando il tratto del genoma che vogliamo che ci sembra interessante che differisce dagli altri precedenti virus in maniera significativa per cui noi lo possiamo cercare con sufficiente o accettabile precisione poi i metodi si affinano con il tempo però all'inizio si fanno i disegni il disegno molecolare bioinformatica è una nuova scienza è una scienza che ha una diecina d'anni che sulla base di parametri termodinamici biofisici eccetera disegna i test che oggi si basano su principalmente la polymerase chain reaction premio nobel per la scoperta dell'81 quindi abbastanza recente e su cui adesso si basa il grosso della diagnostica molecolare una volta che è messa a punto la diagnostica si innesca il Tantam in Italia noi che eravamo centro di riferimento nazionale come c'era un sospetto su tutto il territorio nazionale ci chiamavano ci mandavano i campioni per vedere se effettivamente c'era questo nuovo virus ne abbiamo fatto dal 10 gennaio fino alla fine di gennaio quando abbiamo isolato il primo virus abbiamo fatto un bel po' di interventi non ne abbiamo trovato nessuno fino a che poi sono arrivati due turisti cinesi che venivano dal nord Italia si sono stati inviati allo Spallanzani e con un metodo in house cioè un metodo non commerciale messo a punto sul momento proprio sulla base di queste informazioni abbiamo fatto la diagnosi qui entra poi la virologia classica cioè la capacità di coltivare il virus cosa che non si fa per la diagnostica comune perché coltivare un virus richiede tempo richiede skill richiede una tipologia di struttura particolare in particolare i virus che sono molto pericolosi richiedono i laboratori dedicati di livelli di biosicurezza avanzati questo è un virus di livello 3 Ebola e di livello 4 sono laboratori che oltre ad avere strutturalmente delle caratteristiche richiedono anche una particolare formazione ecco addestramento delle persone e quindi il tempo diciamo a lungo nel lungoraggio è quello di prepararsi poi quando scatta il primo quando è scattato l'allarme vero lì non abbiamo più conosciuto pace perché abbiamo dovuto a parte ci siamo dovuti dirigere in due direzioni da una parte organizzare un'attività diagnostica che servisse sul territorio offrendo ad altri laboratori la possibilità di imparare e quindi di rendersi autonomi questo sempre prima che divenissero disponibili i test commerciali poi quando i test commerciali sono diventati disponibili la mole di lavoro diagnostica quindi rutinaria era talmente tanta che abbiamo dovuto creare una rete nel Lazio per esempio ogni regione si è organizzata la sua rete nel Lazio abbiamo organizzato la rete coronet nella quale per essere sicuri che i laboratori avevano lo stesso livello di capacità di addestramento e quindi la stessa attendibilità abbiamo dovuto organizzare una formazione e un test per capire e questo costa lavoro tantissimo lavoro e coordinamento e capacità di dire agli altri quello che devono fare perché non è facile bisogna guadagnare la fiducia per essere per avere l'autorità perché l'autorità te la può dare la regione te la può dare lo Stato però se non te la sei guadagnato c'è poco da fare nessuno ti viene dietro allora questo è un altro lavoro che si fa nella fase pre-pandemica nella fase a lungo raggio poi quando scatta il momento c'è tutto pronto però devi aver lavorato tantissimo per la prepare and rest quando è il momento poi l'arco scatta e lancia il dardo poi da lì ci sono vari filoni vari rivoli nei quali si incanalano le attività ripeto l'attività di coordinamento l'attività rutinaria che a volte è tanta e questa volta è stata proprio talmente tanta che è difficile immaginare e poi un laboratorio come il laboratorio che ho diretto io è un laboratorio di un IRCS cioè un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico cioè oltre a fare attività diciamo di servizio fa anche attività di ricerca e quindi deve produrre innovazione conoscenza scientifica e questo ci ha aiutato moltissimo aver isolato il virus perché isolare il virus vuol dire averlo farlo crescere poterlo testare con gli anticorpi poter mettere a punto anche forme di diagnostica nuove e mettere a punto la diagnostica immunitaria immunologica che non è uno scherzetto da niente e che permette di controllare poi la risposta ai vaccini e tante altre cose permette di capire che cosa fa il virus alle cellule come le uccide che cosa danneggia se il danno è derivato direttamente dal virus oppure dalla risposta dell'organismo al virus quindi una forma di autoaggressione che una volta che il virus l'è innescata diventa indipendente dal virus questo è importante perché il tipo di approccio poi terapeutico ne dipende perché tu puoi colpire il virus finché vale la pena quando poi quello che succede non dipende dal virus ma dipende dalla risposta dell'organismo è inutile che vai a pensare all'antivirale quindi tutta una serie di concetti si articolano attorno a questa attività di ricerca che viene fatta nei laboratori e di ricerca e la fortuna del laboratorio che ho diretto io è questa di stare in un IRCS laddove oltre a fare attività di ricerca ricerca diciamo applicativa ricerca che deve avere un risvolto immediato come per esempio mettere a punto una diagnostica molecolare un'attività diagnostica innovativa che ti permette poi di fare la diagnosi e quindi di applicarla ai pazienti ed è cruciale questo aspetto quindi l'ambito è un parallelo che deve andare avanti perché non si improvvisa ma bisogna avere le spalle salde metodologicamente per per esempio mettere a punto i metodi diagnostici avere anche una solida rigorosità nelle modalità di validazione dei test questo nella fase in cui i test non sono ancora alla portata di tutti e perché i test diventino alla portata di tutti ci vogliono i pionieri che si occupano di questa fase altrimenti non si può sviluppare la diagnostica e un concetto che io tendo sempre a sottolineare è che non c'è niente di più errato di una convinzione che cerchiamo di sfatare in tutti i modi che oggi ci sono le macchine che fanno la diagnosi o che fanno i test non è così le macchine sono un mezzo ti danno una materia intanto devi sviluppare i test e questo non lo fanno le macchine ma ci vogliono i cervelli e poi una volta che hai sviluppato un test automatizzato nel quale magari l'intervento del tecnico è premere un bottone poi ci vuole chi lo legge chi si accorge se il test ha fallito se ha detto una fesseria se il risultato è reliable è tutto quello che gira intorno per cui è una cosa che quando mi capita la dico sempre perché c'è un concetto che pensa alle persone che lavorano nel laboratorio come dei tecnici che spingono i bottoni e vi assicuro è veramente sbagliato questo concetto come ultima domanda torniamo da te Fabio che sei evidentemente protagonista questa sera per arrivarci prendo una figura un'immagine che ci ha dato a dottoressa quella dell'arco questa non è mia di Alessandro Baricco quindi poi gli pago i diritti a fine serata c'era un maestro di tiro con l'arco giapponese nel settecento che doveva il più grande maestro di tiro con l'arco doveva tramandare fondamentalmente questa scienza incredibile di guerra e a un certo punto per farlo dice scrive un libro di regole di tiro con l'arco quindi inizia a scrivere regole e arriva a scrivere 50 regole ma dice 50 regole sono troppe devo ridurre arriva a scriverne 30 alla fine approda al manuale perfetto di tiro con l'arco con 14 regole per tirare con l'arco tendi l'arco fino a quando non senti tirare tre capelli del tuo chignon tre capelli non quattro non due tre allora quello è il punto perfetto e quando ho lavorato un numero di anni notevole per arrivare a questo manuale perfetto di tiro con l'arco alla fine di questo libro scrive delle poesie degli haiku come dire l'arte arriva in fondo quando hai capito tutto di una cosa quando l'hai scarnificato quando sei arrivato all'essenza di un'idea c'è l'opera d'arte quindi l'opera non è un tentativo confuso di mettere qualcosa è esattamente il centro di quel tuo percorso ecco quindi la domanda generica che ti faccio è cosa pensi riguardo di questa idea di essere artista perché sei artista e come sei diventato artista allora dunque il motivo per cui sono diventato artista è banalmente per merito di un altro artista io ero a documenta di Kassel e vidi il lavoro di Cadera Tia che è un un artista franco algerino che con una semplicissima installazione è riuscito a riconsegnare interamente questo è il mio punto di vista da osservatore tutta la tragedia della prima guerra mondiale io arrivo da una regione del Veneto che quei territori li conosce bene dunque incrociavo incrociavo questa incrociavo questa installazione quasi per caso e ne rimasi talmente colpito da rimanere di fronte a questa installazione per penso un pomeriggio intero e si ripeteva era una sorta di video che si ripeteva per me ogni volta ad ogni ripetizione c'era c'era un'opera nuova e a quel punto mi sembrava di aver intuito qualcosa in quel momento mi sembrava di aver intuito cosa era la figura dell'artista cioè la figura dell'artista era una parte una parte della comunità diciamo che in qualche modo reagiva prima degli altri a determinati stimoli e reagiva in maniera in maniera intuitiva dunque senza in realtà arrivare a delle conclusioni di tipo di tipo preciso ma ponendo delle ponendo delle questioni aperte e mentre poneva queste questioni aperte ecco queste questioni aperte venivano poste al resto della comunità di cui l'artista fa parte sotto forma di opera chiedendo anche alla comunità di insomma partecipare ecco a questo quesito e tornando anche a quello che ci dicevamo prima è esattamente la ricerca scientifica è in realtà qualche cosa a cui gli artisti reagiscono reagiscono quasi istintivamente per me il rapporto fra fra arte e scienza è questa cosa qui e non è un non è un rincorrere l'informazione o cercare di spiegarla o addirittura cercare di illustrarla aiuto no è reagire alla novità che la ricerca scientifica porta all'interno della comunità ecco la parte degli artisti è quella che secondo me reagisce prima degli altri in maniera anche ogni tanto scordinata imprecisa imperfetta ecco ed è all'interno di quell'imperfezione che poi tutti quanti si possono inserire ma è incluso io sono un osservatore anche e su Caderattia in quel preciso lavoro io potevo potevo inserirmi con tutta quanta la mia la mia le mie emozioni la mia specificità come osservatore ecco lì ho capito che 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 ho capito qual era la figura ho capito mi ero fatto un'idea di com'era la figura dell'artista di qual era la figura dell'artista e ho intrapreso la mia strada il mio personale tragitto e fatto di moltissimi errori all'inizio dunque ora non ne faccia ma comunque sono più consapevole degli errori che faccio lì sul momento sull'istante non dopo anni ed è un'esperienza ed è ed è ed è un'esperienza che con la maturità si fa sempre più interessante proprio in virtù del fatto che l'imperfezione di questa pratica diventa la parte più centrale più e più imprevedibile proprio imprevedibile nel senso nel senso che 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 è imprevedibile anche la relazione con le persone e io vedo che ci sono tornando al al lavoro di prima ci sono delle ci sono delle imprevedibilità di tipo legate all'emozione di che osserva di che osserva questo lavoro spesso ci sono delle mi è successo di trovare la mia scultura accanto a dei camini per esempio proprio in virtù del fatto che quella scultura ricordasse una fiamma più che un getto d'acqua ho trovato la cosa molto interessante anche perché è successa già in un paio di occasioni questo mi porta a pensare che ci sia una correlazione fra immagini che ancora non ho capito e questa parte della mia professione penso che sia la parte della mia professione più interessante ovvero il rapporto il rapporto con tutta quanta la comunità ecco pensare che l'artista sia comunque una scheggia che va per conto suo secondo me è un'idea sbagliata per capire che cosa è l'arte per capire cosa fanno gli artisti bisogna capire prima di tutto la comunità dove gli artisti lavorano l'artista è qui e ora fa una cosa in quel momento in quello spazio senza la comunità di cui fa parte l'artista non fa nulla è completamente privo di qualunque di qualunque suggestione di qualunque stimolo e la scienza con tutti i misteri che porta che cerca di affrontare per la comunità artistica è fonte costante di ispirazione e produzione di immagini e di immaginari e di creatività grazie allora grazie innanzitutto Procida e grazie ovviamente a 110 a Mediolanum spero sia stata un bel dialogo ringrazio ovviamente la dottoressa Capobianchi ringrazio ringrazio Ramona Ponzini per e ovviamente Fabio Roncato di cui vi invito a vedere il lavoro a Palazzo Davalos grazie ancora buona serata grazie a tutti 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 grazie a tutti